Sabato 20 dicembre Christmas party a Le Club Sabato 20 dicembre Hot Stuff Event in collaborazione con White Stuff e Night Sense Invitano tutti i bimbi e le bimbe che hanno fatti buoni quest'anno a Le Club Dato che era tale siamo tutti più buoni, Le Club sabato 20 dicembre vi regala un ospite di eccezione Christmas party a Le Club direttamente dal Cocoricò di Riccione e dalla nocce escabrosa suonerà per voi DJ Andrea Mattioli Andrea Mattioli a Le Club Sabato 20 novembre non mancare al party di Natale più incazzato della città a Le Club special guest Andrea Mattioli E come al solito il vostro Santa Claus della console Kando DJ e la vostra scannatrice Lori Beach Quella miglior electro house di Bologna e provincia Christmas party a Le Club Inoltre tutti i bimbi e le bimbe che verranno a ballare al club col cappellino da babbo Natale salteranno la fila Se hai il cappellino di Natale salti la fila a Le Club Per info, prenotazioni e foto delle serate dirottate la vostra arena su www.hotstavdisco.it Le Club Sabato 20 novembre non stare in casa a mangiare il panettone o a fare un puzzle con la tua ragazza Vieni al Club Special guest DJ Andrea Mattioli il Christmas party delle vere cartole di Bologna E come direte alla vostra mamma quando gli consegnate la letterina di Natale e la mettete sotto l'albero Mamma I love this sound I love this sound Benvenu a Le Club